Signore, signore, vengano, vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica. Dieci lottatori e un solo vincitore. Affilate le note, la Top Ten sta per iniziare su CineFan 100.7. Ne rimarrà uno solo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Eccoci qua pronti con la Top Ten, iniziamo con la numero 10, le vibrazioni, dov'è? Dimmi qualsiasi cosa, basta che mi dici dov'è, 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 dov'è? Numero 9 per J-AX con Max Pezzali, la mia hit. Posizione numero 8 per Mahmood con Rapide. Numero 7, Achille Lauro, il brano, me ne frego. Posizione numero 6 per Gali con Boogie Man. Il vincitore del Festival di Sanremo, Diodato, numero 5 con Fai Rumore. Posizione numero 4 per Francesco Gabbani con Viceversa. Saliamo sul podio e troviamo Levante con Tiki Boom Boom. Posizione numero 2 per Elodie con Andromeda. Ed arriviamo alla prima posizione, sono loro, i pinguini tattici nucleari con Ringo Starr. In un mondo di giove di polio, sono Ringo Starr. Quem è tiksi fuori? Si affamому che ti sono utile per la parte delle varie. Conduzione ovo mi McMahon e trovare, dov'è, dov'è, dov'è.